Mamme e bambini in strada, tensioni, con le forze dell'ordine, svincolo dell'asse mediano, bloccato. Non ti preoccupi. Che sono andato a spettolo che vada, hai capito? Sono qua stanno qua. Vada, io ne, io ne vado a fare pronti. Non mi ne vado, non mi ne vado. Che sai che s'amica? Anche il nuovo golpe di爬. Ho preso, quello il grosso vol إلى una volta, è unina. Ho preso, quello il grosso volto da anche face. Che vi sono.